Così il tuo fratello d'Italia ti rovina anche Italia Viva e la Lega. Devo dire che però è sempre stimolante intervistare, è capitato più volte il senatore Renzi, sia in televisione che in dibattiti pubblici, e poi sono sicuro che non verrò attaccato, questo lo do per acquisito, comunque, però è stimolante. A me non mi attacca mai nessuno, si chiede tranquillo. È una persona, sicuramente da un punto di vista intellettuale, molto stimolante. Allora, senatore, io partirei subito, diciamo, da quelli che sono i temi di queste, ricordiamoci, le drammatiche settimane, perché noi siamo qui, però c'è gente che purtroppo in Ucraina muore sotto le bombe, sotto gli attacchi militari. Una pace davvero difficile da comporre, rispetto alla quale io vedo che si scontrano due posizioni. Lei ha detto, se ricordo bene, l'ho letto su un'agenzia, sono più vicino alla posizione di Macron. La posizione di Macron si sintetizza nella frase non possiamo umiliare la Russia, se non ne avremo conseguenze per i prossimi decenni. Tutti ricordiamo il famoso saggio di Keynes, le conseguenze della guerra. La seconda guerra mondiale fu figlia della prima guerra mondiale. E poi invece una posizione più di Biden, che è una posizione molto marcata, dobbiamo riprendere tutto. Allora, premesso che in questa guerra, per quanto mi riguarda, c'è un aggressore e un aggredito. L'aggressore è Putin, gli aggrediti sono gli ucraini. Putin ha violato il diritto internazionale, e su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo. Ma come si comincia a costruire una pace? Intanto grazie, grazie direttore, grazie Armando Siri all'invito. Mi hanno detto, ma perché vai alla scuola di formazione politica della Lega? Perché vanno invitato, e sono ben felice di dialogare. Siamo avversari, avversari politici, siamo da due parti opposte del Parlamento, anche se adesso appoggiamo lo stesso governo in una situazione un po' particolare. Ma in un paese civile il confronto tra persone diverse è un bene. Quindi io da questo punto di vista trovo sorprendente che ci siano state delle discussioni su queste. Non vi verrò a dire quello che è venuto a dirvi Giuseppe Conte, perché alla scuola di formazione della Lega guidata da Siri, qualche anno fa Conte venne qui per lisciare il pelo agli studenti e agli amministratori, mi disse, io sono populista. Uno, io non sono populista, anzi, io sono esattamente l'opposto, o cerco di essere esattamente l'opposto. E due, non mi va di venire a lisciarvi il pelo. Appartenete a un partito diverso, vengo a dirvi le mie idee, vi fate le vostre idee, e poi continuiamo a camminare su strade diverse, ma nel rispetto che ci si deve tra avversari. Questa è una premessa che probabilmente non serviva nemmeno, ma il fatto che la dobbiamo ridire dimostra che forse c'è bisogno di un ABC del Galateo politico, per cui sono felice di essere qui, e nel merito rispondo al direttore dicendo, uno, far finire una guerra è la cosa più difficile che ci sia. L'unico modo facile per far finire una guerra è non iniziarla, perché poi è un casino incredibile. Cioè l'idea che si possa gestire un conflitto bellico non esiste. Non esiste. Allora, in questo senso, prima di preoccuparci delle distanze tra Biden e Macron, la posizione di Macron è molto articolata, io sono sicuramente macroniano, penso che si debba avere la forza di dire che ciò che sta accadendo in Ucraina, nel cui scenario va ovviamente con forza condannata all'aggressione di Putin e la violazione dell'integrità territoriale ucraina, è una vicenda che avrà effetto per anni e anni. E va oltre il Donbass, e va oltre Mariupol, e va oltre Odessa. Io non so, ho capito che voi siete divisi tra amministratori e giovanissimi, qualcuno anche del liceo. Chi segue la storia di questo pianeta sa che a un certo punto c'è una località, si chiama Yalta, dove si scrivono gli accordi, il direttore è un appassionato di storia ed è uno scrittore importante su questo, si scrivono gli accordi che valgono, diciamo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Si disegna l'ordine mondiale. Yalta ha resistito a tanti passaggi, persino per alcuni aspetti al muro di Berlino. Perché alla fine il muro di Berlino è stata una incredibile novità, ovviamente, ma non ha cancellato la divisione in alcuni blocchi, ne ha modificato i confini. Tu ricordi Fukuyama che scrissi allora... La fine della storia. In realtà è finita solo la geografia, perché hanno cambiato profondamente i confini dei paesi. Bene. Oggi con l'Ucraina cambia tutto. Sullo sfondo c'è la questione cinese. Il G20, che è un'invenzione recente, la prima decada di questo secolo, è già in discussione adesso. Qualcuno dice c'è il G2, Stati Uniti e Cina e basta, con l'Europa in qualche modo sotto la leadership americana e la Russia sotto la leadership cinese. Non credete a queste ricostruzioni superficiali. però dall'idea. C'è una questione alimentare. Avete visto l'ultima copertina dell'Economist? Il tema della crisi, della carestia che porterà a cosa? A un aumento dell'immigrazione. E ancora, lo dico in Casa Lega, voi magari non c'eravate nemmeno Armando e gli amici della Lega, sì, mi avete massacrato quando ero presidente del Consiglio sulla questione dell'invasione 2015-2016. Vi ricordate? Qualche amministratore sicuramente se lo ricorda. Dicevate che c'erano dei numeri insostenibili, numeri di immigrati che arrivavano in Italia attraverso la via africana, attraverso le navi. Ebbene, se guardate quei numeri, non voglio stare adesso a riaprire la discussione su a loro, ovviamente abbiamo opinioni diverse, ma se guardate quei numeri di quella che comunque era un'emergenza, lo riconoscevo anch'io, vedete che oggi in Ucraina, dall'Ucraina, sono arrivati quasi gli stessi numeri dell'anno record del 2015. sapete qual è la differenza? Che questi sono arrivati in tre mesi e quegli altri non hanno. Cioè, cosa voglio dirvi, e arrivo alla tua domanda direttore, è un gigantesco, gigantesco, gigantesco cambio di gioco quello che sta accadendo in Ucraina. E riguarda l'energia, ancora eravamo divisi nel 2016 sul referendum sulle trivelle, voi eravate contro di me. Oggi io vengo a rivendicare con forza che quella posizione era giusta a mia. È normale, se no non rivendicavo. Ma, vabbè, sono punti di vista, ma magari qualcuno di voi la pensa e c'era magari un elemento più politico per cui c'era un diniego delle posizioni nostre, una divergenza rispetto alle posizioni nostre. Potrei andare avanti a lungo. Il concetto è che l'Ucraina cambia tutto. Allora, prima cosa, bisogna cercare di arrivare alla pace. Ma è evidente che la pace da un lato non si fa come posso dire, con le armi. Cioè, se qualcuno immagina che questa guerra produca un vincitore, Putin ha perso l'occasione di vincere nella prima settimana. nel momento in cui nella prima settimana non ha vinto, Putin questa guerra non l'ha vinta e non la vincerà. E aver dato le armi all'Ucraina è stato fondamentale per consentire di non fare quello che era già successo. Bisogna continuarne a darne di armi, è una domanda. Ma su questo c'è la posizione di Salvini e di Conte che è molto negativa. Io parto da un presupposto. Oggi lo stato dell'arte è, dopo 90 giorni, grazie alle armi inviate l'Ucraina non ha perso. Chi di voi studia storia? Se c'è qualcuno che studia storia? No. Vabbè, non la faccia finta alzare la mano. No, credo che un po' tutti quanti studiano la storia. Vabbè, la storia la studiano tutti, però diciamo iscritto a storia. Vabbè, lui ha fatto finta alzare la mano, grazie. È una fake news ma non importa. Il concetto è chi studia storia sa che l'Unione Sovietica era già riuscita in diverse circostanze a intervenire nel paese che veniva aggredito nel 1968 la Cecoslovacchia prima nel 56 l'Ungheria nel 53 ancora la Polonia cioè cosa facevano i sovietici? Invadevano aspettavano che ci fosse la rivolta da dentro e poi a quel punto mettevano un governo fantoccio fantoccio di amici diciamo chiamano amici insomma un governo di fantocci amici questo tipo di attività loro l'hanno pensata perché Putin è cresciuto nel KGB Putin è cresciuto facendo la spia dell'Unione Sovietica era il capo della stazione di Dresda e Dresda come sapete oltre ad essere una bellissima città rovinata e distrutta dai bombardamenti è una città della Germania di quella che era la Germania Est lo dico a quelli un po' più anziani noi quando si parla di due Germanie i più giovani ci prendono per matti cioè pensano che abbiamo bevuto vedete due cose c'erano quando noi avevamo 12 anni 13 anni c'erano due Germanie c'era la partita Germania Ovest contro Germania Est oltre che molto più seriamente un muro di Berlino allora vengo alla sostanza Putin ha tentato di fare la stessa cosa non gli è riuscita grazie alle armi direttore meno male che si sono mandate le armi meno male che si sono mandate le armi questo credo che siamo tutti d'accordo no tutti d'accordo no perché c'è chi si è scoperto pacifista all'improvviso perché se tu hai fatto presidente del consiglio e hai aumentato le armi più di tutti gli altri non puoi diventare pacifista perché c'è il sondaggio io ve lo dico a voi giovani della Lega con cui ci scontriamo mi riferisco quasi sempre a Conte io anche perché da quando l'abbiamo andato a casa ci è rimasto un po' male gli va anche tutto male quindi io vorrei un po' di affetto e solidarietà pensate che lui è arrivato è andato alla Camera e ha detto voglio cambiare il capogruppo e gli hanno lasciato il capogruppo allora è andato al Senato ha detto vabbè voglio mantenere il capogruppo e gliel'hanno cambiato e poi è venuto al Senato e ha detto facciamo questo presidente della Commissione Est questo alla fine a forza di cambiare presidente è stata letta Stefania Craxi di Forza Italia quindi è in un momento nel quale attaccare i conti non mi sembra nemmeno bello però perché no perché io l'ho attaccato quando ero come dire solo contro di lui ora non c'è quasi più gusto però il concetto di fondo è non seguite i sondaggi le armi sono state fondamentali cosa deve succedere accanto alle armi e qui vengo alla tua domanda è chiaro che ci vuole anche l'iniziativa diplomatica questo sì e l'iniziativa diplomatica la sta facendo chi? Erdogan i cinesi aveva iniziato poi ha avuto dei premi interni l'israeliano sapete che è venuta meno la maggioranza in Israele perché una deputata di una maggioranza molto risicata si è sganciata dalla maggioranza io dico perché non lo fa l'Europa e ho proposto la Merkel ho proposto un via di mezzo tra Europa e Nato perché Tony Blair che è inglese non è più dell'Unione Europea però è stato a lungo uno dei più grandi leader europei io continuo a considerare Tony Blair il più straordinario leader degli ultimi 30 anni in questo pianeta quindi insomma in questo continente poi non voglio toccare anche gli americani allora per farti una breve direttore penso che A meno male che sono state inviate le armi B è evidente che aver inviato le armi non è sufficiente perché occorre una soluzione politica questa soluzione politica ovviamente non è facile da trovare perché una guerra come la guerra ucraina è una guerra devastante oltre il numero delle persone morte ci saranno delle conseguenze nei prossimi decenni sull'immigrazione ma anche sul climate change scusate vi faccio poi finisco se no ho fatto una prima risposta fin troppo lunga sai noi di sinistra facciamo discorsi Raul Cast Fidel Castriani e lunghi noi di sinistra chi? ero voluto di qui alla Lega se lo dico qui dove lo dico? se vuoi a un'iniziativa di PD o di Leo un po' su di noi di sinistra sono venuto alla Lega solo per dire noi di sinistra già che mi sono messo la giacchetta verde è sempre un concetto relativo come i pianeti no è della mia moglie mi hanno fatto la mia moglie quindi ho presa verde e poi ho detto porca miseria papà la Lega dicevo mi sono impappinato su noi di sinistra mi fai effetto quando dice così allora stavo dicendo che è un po' freudiano questo noi di sinistra non è proprio convinto al cento per cento è buona strada quello anche da sempre allora diamoci del tu buona strada anche te ci esce noi siamo di una lobby quindi la guerra ci vuole l'inizio si chiama lobby scout quindi è una roba sintetizzo io non faccia quella faccia faccia la cosa per dire sintetizzo no quello era un casino non parliamo di politica sintetizzo sintetizzo mi avete censurato su noi di sinistra chiedi sul tento dei poveri comunisti no questo è quell'altro sintetizzo per andare alla seconda domanda quindi la guerra le armi bisogna darle ma bisogna riprendere l'iniziativa diplomatica perché altrimenti non se ne esce giusto? si l'hai fatta ho parlato mezz'ora l'hai fatta come dire potevi essere più breve però meglio avere i ragionamenti che i tweet bisogna sempre abituarsi a riflettere adesso mettiamo un attimo la guerra da parte passiamo un attimo si è appena iniziato sulla guerra poi dopo diremo qualche altra cosa allora lei anzi tu hai detto all'inizio sono qui la Lega siamo diversi siamo opposti però io qualche punto di contatto comincio ad intravederlo sulla carta di identità il nome di battesimo sicuramente no ci saranno tra breve i referendum ma ha colto un ragazzo si chiama Matteo ho detto che non vi fanno entrare a voi se non vi chiamate tra breve ci saranno i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega che ha raccolto le firme insieme ai radicali qual è la posizione di Matteo Renzi qual è la posizione di Italia Viva anche perché il tema giustizia è il tema di fondo del tuo ultimo libro no perché un libro che io consiglio di leggere però è denso di riferimenti a quello che è un nodo insoluto dell'ultima stagione della Repubblica Italiana e almeno 30 anni che è il rapporto tra politica e giustizia assolutamente sì sulla questione del referendum io ho firmato il referendum li ho firmati a un banchetto dei radicali e non un banchetto della Lega ma ho firmato a largo di Torre d'Argentina sotto la radio ma il quesito è lo stesso no giusto sì ho capito però ti hai detto io preciso sempre perché vengono qui a farvi quelli che lisciano il pelo io sono a mettere invece i paletti e sì è chiaro parliamoci chiaro ragazzi che il quorum sia raggiungibile mi sembra dopo che sono saltati i tre referendum fondamentali difficile cioè c'erano tre referendum che avrebbero attirato partecipazione indipendentemente da come l'ha pensata nel merito che erano quello sulla cannabis quello sull'eutanasia e quello sulla responsabilità civile questi tre tiravano per dirla con un tecnicismo poi al di là di come uno andava a votare però tanta gente si sarebbe messa in fila per andare a votare oggi che questi referendum possano passare non lo so sicuramente io voto a favore il punto chiave è che però che passino o no i referendum questo tema della giustizia non finisce qui bisogna arrivare a un meccanismo nel quale tu sei un magistrato fai carriera se sei bravo non se appartiene alla corrente a me magistratura democratica il direttore responsabile dell'organo di magistratura democratica ha detto che bisogna stringere un cordone sanitario attorno a Renzi ora se tu sei di magistratura democratica e sei un magistrato di magistratura democratica e ti hanno detto di stringere un cordone sanitario attorno a Renzi quando arriva una mia denuncia che fai? o quando mi denunciano? perché? perché il meccanismo della corrente è che va avanti quello della corrente giusta e non è così guardate che questo passaggio è un passaggio che dobbiamo fare non contro i giudici perché questo passaggio di strapotere delle correnti ha fatto del male innanzitutto a tanti magistrati a tantissimi magistrati ora non se ne parla più ma quando tra tre giorni vedrete tutte le celebrazioni in memoria di Giovanni Falcone Francesca Morvillo la moglie lunedì sono i 30 anni della strage di Capaci quando vedrete tutte le celebrazioni del 23 maggio io vi invito intanto chi ha la mia età o di più sa cosa vuol dire voi ragazzi quanto avete? media età? 20 anni io avevo 17 anni in quell'anno devastante del 92 Falcone e dopo due mesi Borsellino tra l'altro tu che sei scout ricordi che in quel mese lì a giugno Borsellino fece una bellissima manifestazione a Padre non mi viene i brividi perché veramente è una cosa che ci ha cambiato la vita a tanti di noi alla Gesci perché lui era scout e chiedendo di o aveva avuto una famiglia scout mi ricordo se era stato lui o aveva avuto la figlia qualcuno della famiglia mi ricordo e diede un messaggio bellissimo di impegno bene Falcone e Borsellino sono il non plus ultra della storia di questo paese per quanto riguarda i giudici bene a Falcone il CSM ha fatto la guerra cito l'unità di quegli anni consigliere del CSM mi pare fosse Pizzo Russo adesso verifico chi era consigliere eletto dal Parlamento in questo caso dalla sinistra e cosa dice lui Falcone non ha la necessaria indipendenza per fare procuratore nazionale antimafia Falcone oggi è diventato giustamente comprensibilmente il punto di riferimento di tutti ma da vivo il CSM per le correnti gli ha fatto la guerra e Paolo Borsellino ha avuto una cosa pazzesca la famiglia Borsellino continua a chiedere le figlie i figli perché c'è anche figlia e figlio continuano a chiedere giustizia perché a Paolo Borsellino a Paolo Borsellino uno dei più grandi magistrati di questo paese martire della mafia è stata negata giustizia perché gli hanno fatto un processo farsa ai presunti mandanti che non erano loro con un'operazione di depistaggio è una vergogna che addirittura sulla pelle e contro la memoria dei magistrati più bravi ci siano state pagine di mala giustizia figuratevi per un povero cittadino io non faccio la vittima io le mie cose chi vuole se le legge me ne frega nulla io le ho scritte messe in fila punto non mi interessa io mi posso difendere vado dovunque vado in tv vado persino alla scuola della Lega posso andare dappertutto il punto centrale mio non è difendere me stesso è difendere le ragioni della giustizia perché se tu sei uno un quisco del popolo che nessuno conosce ed entri in quel meccanismo lì sei rovinato allora il punto fondamentale della giustizia è uno i giudici devono andare avanti se sono bravi non se appartengono alle correnti due chi sbaglia paga perché non può valere per tutti tranne che per i magistrati su questi due punti penso si possa trovare un punto di intesa ormai nella prossima legislatura perché perché in questa legislatura ad esempio Bonafete faceva danni eh oh però un po' l'avete fatto anche voi all'inizio primo anno non è colpa vostra ma insomma il ministro era lui il primo anno qualcosa aveva toccato ingoiare anche a voi a votare in quel primo anno eh di Bonafede ministro poi Bonafede è passato con cioè o meglio il governo Contebis c'era il centro-sinistra quando finalmente l'abbiamo mandato a casa ha smesso di far danni e chi è arrivato alla Cartabbia ecco qui abbiamo un'opinione diversa sulla riforma Cartabbia voi votate a favore noi ci asteniamo perché voi votate a favore e pensate che sia un buon passo in avanti io mi astengo perché secondo me è inutile cioè non è un passo indietro però non c'è niente di quello che vorrei vedere in una riforma della giustizia e che cosa vorrebbe vedere la separazione delle carriere primo punto ma la separazione delle carriere non come la pensano tutti PM e il magistrato separazione delle carriere delle carriere di quelli bravi e delle carriere di quelli non bravi nel senso che la prima cosa da fare deve andare avanti chi è bravo e ci devono essere dei criteri concreti esempio facciamo degli esempi perché giustamente il direttore ricordava gli ultimi 30 anni e chi come noi ti quant'anni hai Armando? 50 io 47 no capito vabbè vabbè la stessa età 23 anni vabbè comunque diciamo noi apparteniamo alla stessa generazione ti quant'anni hai direttore? io 60 fra qualche settimana e che tu vuoi che faccia gli auguri? che sono Marilyn Monroe con Bob Babbè lo dirò un parlamentare del mio partito gli farà gli auguri sicuro Ansaldi che è un suo amico il concetto è a prescindere da questo la conclusione è che la nostra generazione è vissuta con l'idea che Tangentopoli abbia segnato il rapporto giustizia politica giusto ma prima di Tangentopoli tornate ad Enzo Tortora i ragazzi più giovani forse non ricordano bene quanto fosse enorme l'impatto di Enzo Tortora era uno dei due tre più popolari uomini di televisione nel tempo in cui non c'erano i social e quindi la televisione era televisione facebook twitter tutto insieme e non c'era nemmeno il digitale quindi c'erano soltanto pochi pochi canali e Tortora era probabilmente nei primi tre sicuramente in termini di popolarità a un certo punto una mattina vanno lo prendono e lo sbattono in carcere sono accuse gravissime cos'era di fatto c'erano dei pentiti che dicevano che lui due pentiti di camorra e che dicevano che lui era sostanzialmente di fatto affiliato alla camorra e dentro un giro di droga ma partendo dall'affiliazione ai clan e l'hanno tenuto in carcere Enzo Tortora non lo so è come mettete i personaggi più famosi della tv che sono contemporaneamente tiktoker influencer e dj quindi il massimo della popolarità quello che lo ha messo dentro è dopo qualche anno diventato membro del CSM ha fatto carriera ma a voi sembra normale ovviamente è venuta fuori la verità dopo qualche anno Enzo Tortora è stato assolto lui arriva davanti ai giudici dice io sono innocente spero che mi auguro che lo siate anche voi guardate che questa è una frase enorme io sono innocente mi auguro che lo siate anche voi quella vicenda lì della giustizia giusta è una vicenda che è ancora attuale e non per me io mi difendo da solo e poi se c'è come dire non è solo mi difendo ma anche all'attacco talvolta il problema è per le persone normali quindi separazione delle carriere tra quelli bravi e quelli non bravi è evidente che occorre la responsabilità per chi chi sbaglia deve pagare tutto il resto è secondario e viene dopo cambio di nuovo argomento perché a una settimana bisogna andare via poverini hanno da fare alla ricerca di di un altro secondo me punto di convergenza l'Italia è notoriamente uno dei paesi al mondo con la più fra le più elevate pressioni fiscali e non sempre ha una pressione fiscale così esasperante corrisponde una qualità di servizi che vengono erogati ai cittadini lo dico poi soprattutto da da meridionale c'è stato di recente diciamo attrito all'interno della maggioranza di governo sulla questione del catasto e della tutela delle tasse della casa perché poi sappiamo che gli italiani amano molto la casa siamo uno dei paesi al mondo dove i cittadini per fortuna hanno la casa in proprietà qui c'è il senatore Siri che da anni porta avanti una sua battaglia sulla flat tax ecco tutto questo è un punto di convergenza perché anche lei si è spostato su posizioni diciamo direi liberali per quanto attiene il rapporto fisco cittadino vorrei contestare l'espressione spostato nel senso cioè se volete dire che sono spostato è un'altra storia no no per carità non mi permetterei mai sarebbe uno dei migliori complimenti degli ultimi dieci anni quindi va bene Salvini una volta mi fece una cosa dicendo meglio Renzi meglio bestia che Renzi per dire il livello però come vedete ce le diamo e continuiamo a combattere perché è come giusto che sia talvolta insieme molto più spesso divisi quindi comunque spostato lo contesto perché perché io su queste posizioni ci sono sempre stato ci sono stato da presidente della provincia non ve ne frega niente ora sono i ricordi di nonno Matteo lasciamo stare l'IPT l'IPT era la tassa che aveva la provincia io la portai al minimo litigai con l'allora presidente della provincia di Roma perché spostando l'IPT un po' abbassando l'IPT era Zingaretti era Zingaretti corsi e ricorsi ma ci facciamo sempre delle gran risate ricordando una volta venne a Firenze a mangiare una bistecca per far pace l'ho fatto da sindaco l'addizionale IRPEF noi l'abbiamo portata a un livello tra i più bassi d'Italia l'ho fatto da presidente del consiglio quando sono arrivato c'era l'IMU l'abbia tolta noi la decontribuzione l'IRAP costo del lavoro lo posso dire qui guarda questa è l'unica frase che faccio diciamo di non è Capitazio Benevolenze ma ricordo un fatto vero con Umberto Bossi a un certo punto in senato vengo eletto senatore c'è Bossi i primi mesi e Bossi mi dà atto dando anche una cazzottata perché Bossi dà atto ma continua a dare le cazzottate anche non stando più benissimo come prima sei stato uno dei pochi che ha fatto qualcosa per la mia gente gli imprenditori del nord perché Industria 4.0 IRAP costo del lavoro Jobs Act noi queste cose le abbiamo fatte poi io penso che ci sia un problema di andare su quella parte di popolazione che ha meno e quindi gli 80 euro che poi dice era un bonus durato 10 anni alla faccia ai bonus se era un malus che diventava la conclusione di questo ragionamento io sul fisco sono molto non è che sono spostato sono molto fisso su posizione liberale ho dubbi Siri lo sa sulla flat tax per due ragioni la prima per una ragione di ordine giuridico costituzionale vale a dire la costituzione prevede la progressività dell'imposizione fiscale quindi se tu fai una tassa sola c'è un contrasto più o meno evidente ma a mio giudizio chiaro con il dettato costituzionale il secondo è perché io credo che noi dobbiamo porci il tema di come prendere atto di una società che sta aumentando le diseguaglianze questo non vuol dire patrimoniale io sono contro la patrimoniale ma questo vuol dire che se io guadagno bene e guadagno bene devo pagare un'aliquota più alta di chi guadagna meno secondo lei in Italia il vantaggio finisco il vantaggio della flat tax che è l'elemento di forza che poi lui fa il professore non lo vuol dire ma che comunque in campagna elettorale si è visto perché la Lega l'ha portata avanti bene è la il retro messaggio di una cosa semplice cioè vediamo di essere chiari oggi vai a pagare le tasse e ti viene voglia di sbattere la testa contro il muro non solo perché paghi le tasse anche per questo c'era la frase di Woody Allen bisognerebbe pagare le tasse con un sorriso ho provato ma loro volevano i soldi che è una frase di un film di Woody Allen il concetto è che pagare non piace a nessuno è che è complicato pagare come si sta pagando oggi la flat tax aveva questo elemento al di là che fosse la flat al 25 o a un'altra aliquota che dava il segnale di ragazzi paghi e addio in America c'è il tax day tra l'altro il 15 aprile da noi abbiamo fatto alcune scelte in questa direzione io rivendico quello che ho fatto io la precompilata tra l'altro arriva credo lunedì la precompilata non posso nemmeno dire C46 a loro perché non credo lo faranno c'è il codice del 2 per 1000 a Italia Viva non ve lo dirò non si sa mai se qualcuno magari sbaglia se deve sbagliare C46 ma al di là non avevo mai immaginato che un giorno sarei andata alla scuola di formazione della Lega a chiedere il 2 per 1000 per Italia Viva questo sinceramente questo è un po' troppo persino per me però il concetto di fondo è che la precompilata è un meccanismo semplice ti arriva a casa controlli se vuoi via e io su queste posizioni diverse sono a favore anche della fatturazione elettronica perché tutto ciò che va nella logica di arrivare al fisco 4.0 ti permette di risparmiare l'evasione fiscale non la combatti con i controlli della guardia di finanza fuori dai negozi la combatti semplificando il modo di pagare le tasse e aggiungo se volete combattere il sommerso e il nero cancellate il reddito di cittadinanza anziché venire a fare un discorso sul contatto voglio finire una cosa sulle tasse Reagan diceva che bisognerebbe prendere il calendario e cerchiare con il rosso anzi fare una festa nazionale nel giorno in cui noi smettiamo di lavorare per lo Stato secondo Reagan nell'8 agosto e cominciamo a lavorare per noi stessi e per le nostre per le nostre famiglie ma secondo lei lei si è prima si è autodefinito di sinistra non c'è stata una certa avversione ideologica in questi anni verso i ceti produttivi cioè chi produce crea reddito crea lavoro viene visto quasi in una posizione di sospetto di pregiudizio direttore questa è facile questa si è fatta una domanda si è data una risposta questa sembrava Marzullo voglio dire che sono d'accordo nel senso che questo è un grande tema ed è il tema che io ho combattuto dall'interno nel PD cioè io ho fatto questo ragionamento che vi ha appena fatto San Giuliano l'ho fatto dentro il mio partito perché io ho detto noi non siamo contro le imprese per questo vi dico che neanche voi al governo avete fatto quello che abbiamo fatto noi per il sistema delle imprese una volta lo disse Berlusconi il Jobs Act in un paese normale lo fa un governo liberal democratico non lo fa un governo da sinistra ma io sono di una sinistra che si riconosce in Tony Blair e in Barack Obama e in Bill Clinton all'epoca una certa sinistra la criticò per il Jobs Act dicendo che aveva smantellato i diritti acquisiti ma è una follia il meccanismo io devo garantire il lavoratore per garantire il lavoratore non è che devo dirgli tu devi restare in quel posto di lavoro per sempre perché se no stai male perché se quell'azienda fallisce devi essere messo in condizioni di aiutare l'imprenditore a salvarsi e il lavoratore a trovare un altro lavoro ma guardate che il Jobs Act che voi avete contestato una volta Berlusconi disse e poi il Jobs Act non l'abbiamo fatto insieme no il Jobs Act non l'abbiamo fatto insieme lui ha votato contro come la Lega e come tanti altri ma il Jobs Act ha fatto un milione e trecentomila posti di lavoro di cui ottocentomila a tempo indeterminato non mi ha risposto sulla casa e sul catasto alla casa finisco e poi torno a casa e catasto c'è stata una certa avversione sì che c'è stata però non facciamo l'esempio della destra americana perché perché Ronald Reagan e i liberisti americani e anche se vuole la Thatcher o gli altri europei avevano un'idea di fisco che in Italia non avete neanche voi quando la sinistra americana chiede di aumentare le tasse porta la pressione fiscale al 38% ma sai quanti imprenditori metterebbero la firma per avere il 38% ma firmerebbero con piedi col sangue il punto è creare un meccanismo in cui uno si paghi in modo semplice due una volta che si è pagato è finita lì perché il problema non è soltanto pagare una bella cifra ma che poi hai sbagliato il modulo XY ti può venire a controllare l'ispettore XY eccetera eccetera rispetto al catastro non condivido la vostra battaglia devo essere intellettualmente onesto quando io ero presidente del consiglio non l'ho voluto affrontare ma perché? perché avevo appena fatto la riforma dell'Imu siccome avevo tolto l'Imu volevo impedire che nella comunicazione passasse una sorta di come posso dire poggio e buca compiacente condivisione perché da un lato l'Imu però alzi il catastro non poteva essere così quindi noi abbiamo tolto l'Imu ora è evidente che il catastro va riaggiornato è positivo l'impegno di Draghi di non aumentare la pressione fiscale e quindi mi pare che si sia arrivato poi se ho capito bene avete fatto anche un accordo su questo la verità caro direttore tu sei conosci quelle terre meglio di me è che noi ne parlavo l'altro giorno lunedì a El Colano ero dal mio amico sindaco Ciro Buonaiuto c'è un sindaco d'Italia Viva bravissima lo conosco magari era la domanda della notizia che c'è anche un sindaco d'Italia Viva uno su otto mila insomma ce ne sono più di uno però questo sindaco mi raccontava mi ha portato a vedere alcune realtà del territorio oltre che gli scavi di El Colano bellissimi dice Matteo guarda qui c'è un problema e qui il 50% delle costruzioni sono abusive allora il tema del catastro che poi sono tutte nel momento in cui fanno la richiesta di sanatoria tutte come dire entrano nel database del catastro e qui c'è un problema amici cari al sud che è il tema dell'abusivismo ma rispetto al catastro penso che l'impegno di non aumentare la pressione fiscale penso che sia un impegno che possa vedervi diciamo soddisfatti e voglio fare altre due domande allora la prima la sfiorata sul reddito di cittadinanza il ministro Garavaglia ha detto che mancano al turismo 350.000 persone ed è vero questo lo abbiamo anche riscontrato in inchieste giornalistiche nel settore turistico che è uno dei polmoni importanti della nostra economia ma mancano anche saldatori mancano anche tante altre figure prego ragazzi io come dire Massimo ha fatto quella dichiarazione è una persona seria è stato un buon assessore regionale ma se il ministro leghista per di più chiede un decreto flussi per far venire immigrati a lavorare in Italia la ridico perché non è che è difficile dire è difficile dire ovunque in Italia il bravo ministro del turismo propone di fare un decreto flussi per prendere i lavoratori dall'estero poi naturalmente lui li propone stagionali non è che propone di tenerli dentro sempre 350.000 persone sapete che vuol dire questo che questo paese ha un problema gigantesco se a fronte di questo sappiamo che abbiamo speso 21 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza e lo dico l'avete votata voi è quella legge diceva non l'avete voluta voi era un accordo sì però il governo era il vostro se uno mette 21 miliardi di euro lo ripeto perché mi viene bene 21 miliardi di euro che cosa succede? io prendo 600 euro di reddito di cittadinanza 500 quelli che sono è chiaro che cerco di fare un lavoro al nero ed è chiaro che l'imprenditore serio che ha paura che ha rispetto non lo assume e se non lo assume gli manca gente e gli manca nel turismo e gli manca altrove ah ma qui bisognerebbe aumentare gli stipendi benissimo questo è un altro discorso ma nelle vostre terre nelle vostre vallate quanta gente si è spaccata la schiena costruendo benessere andando a lavorare dalla mattina alla sera e facendolo perché questo era importante per far studiare i figli per far star bene la famiglia quanti l'hanno fatto il valore della fatica del sacrificio sono stati valori su cui si è costruita l'Italia noi oggi abbiamo un meccanismo in cui alla nuova generazione non solo alla nuova generazione vi ha dato un messaggio non ti preoccupare tanto qualcuno paga per te non è giusto il reddito di cittadinanza prima di essere profondamente lei sarebbe disponibile ad abolirlo o a riformularlo fermoli che riformularlo io so per abolirlo quelli che ti dicono va riformulato sono quelli alla Di Maio che l'hanno fatta e poi cercano di nascondersi dietro a un dito io sono per abolire il reddito di cittadinanza sono per cambiare le regole del lavoro se serve noi faremo lanceremo noi un referendum questo l'abbiamo sempre detto ma raccolta firme magari potete venire anche voi stando attenti a non venire a manchieri Italia Viva eccetera ma il reddito di cittadinanza che purtroppo anche la Lega ha approvato è una roba che io ritengo prima ancora di sbagliata prima ancora in alcuni casi di legittima perché poi ci sono i casi di quelli che rubano ma questo bene è una roba profondamente anti-educativa un'ultima domanda e che forse è anche la domanda per me giornalista più importante che cosa farà da grande Matteo Renzi e cerchiamo poi ha fatto la pausa dopo Matteo Salvini se vuoi gli do dei consigli però no no chiariamo bene Italia Viva sarà nel campo largo di Enrico Letta tenterà di costruire qualcosa di diverso oppure magari comincia a guardare al centro-destra visto che abbiamo verificato alcuni punti di convergenza sulla giustizia non è che se ne siano verificati tantissimi sull'economia ne sono altri anche noi siamo molto d'accordo sulle infrastrutture siamo molto in disaccordo sulla globalizzazione ecco allora mi risponda prima a quest'altra domanda che avevo in serbo il PNRR che è una grande attesa per il paese cioè quasi un'attesa messianale a che punto stiamo davvero il PNRR secondo me ha un grande problema di attuazione in particolar modo laddove alcune realtà amministrative sono in ritardo nel farlo però su questi temi come dire siamo tutti sulla stessa barca il punto fondamentale è riuscire a non bruciare questa opportunità che è un'opportunità che storicamente non ricapita appena arrivato il professor Giulio Tremonti che saluto quando il professore era ministro in diverse fasi dell'esperienza dei governi di centro-destra egli ha combattuto anche da posizioni diverse rispetto alle mie perché l'Europa fosse diversa da quella che oggi io quando sono diventato premier ho fatto battaglie non necessariamente anzi in molti casi diverse ma comunque con la stessa ansia di cambiamento oggi l'Europa ha aperto un piccolo spiraglio per qualcuno è poco per qualcuno non va bene ma quello spiraglio che l'Europa ha aperto va colto se non spendiamo bene i soldi del PNRR abbiamo preso anche la faccia oltre che un'occasione quindi questo è il punto è chiaro che la scelta del governo non la giudico è quella di partire dai progetti esistenti cioè non si è fatto un disegno strategico da qui ai 30 anni che verranno si sono presi i disegni strategici i progetti già pronti e si è detto di finanziarli per fare più rapidamente funzionerà non ve lo so dire è chiaro che spero che accada e spero che su questo le infrastrutture siano un volano ora tu citavi prima la visione keynesiana del rilancio della ripartenza dai momenti di crisi con le infrastrutture è chiaro che noi che siamo keynesiani o no sicuramente qualcuno di voi non lo è finché c'è una burocrazia che blocca tutto quando dico blocca tutto non dico bloccare semplicemente le opere pubbliche ma dico anche che per esempio la regione Lazio quando i grillini sono entrati in maggioranza la prima cosa che hanno fatto hanno fatto la moratoria sull'energia voi direte che tipo di moratoria è è la moratoria sul nucleare no nucleare non c'è la regione Lazio mi porta una domanda su Roma all'incenditore ci vuole a Roma ora ti rispondo però il tema è che la grillina assessore all'ambiente ha fatto la moratoria sulle rinnovabili cioè non ha fatto la moratoria sulle trivelle o sul nucleare che peraltro non ci sono in Lazio l'ha fatto sulle rinnovabili a dove vogliamo andare se questo è il livello dopodiché rispetto al termo valorizzatore io sono da sempre favorevole al termo valorizzatore addirittura mi sono preso la prima causa per diffamazione l'ho presa su un termo valorizzatore perché era una trasmissione televisiva da presidente della provincia e una aspirante scienziata mi disse che il termo valorizzatore faceva venire il tumore ai suoi bambini che è una cosa che io non sopporto intanto perché dire che in quella zona morivano più bambini era profondamente ingiusto aggiungo che ancora il termo valorizzatore non c'era quindi sostenere anche ove fosse vera e non lo è la correlazione presenza dell'impianto tumori dire vedi che in quella zona ci sono più decessi per tumore in una zona in cui ancora il termo valorizzatore non c'era era la dimostrazione della stupidità umana io a quel punto feci una dichiarazione molto sobria e dissi che lei aveva l'attendibilità scientifica di Maga Magò e lei mi portò in tribunale e quindi sono andato in tribunale poi sono stato assolto o archiviavo non mi ricordo perché lei diceva esco dal tribunale e mi dicono ma non sente in dovere di chiedere scusa alla signora dottoressa mi dice ma dovrei chiedere scusa a Maga Magò e mi hanno ridenunciato risponde tutte e due la Maga Magò l'ho salvata a proposito di Maga Magò la raggi allora il problema di Virginia raggi ora capisco che la Lega Roma ladrona quelle robe lì che insomma spero vi siano un po' passate ma il simbolo di Roma è la lupa da quando c'è la raggi il simbolo di Roma sono i cinghiali la raggi non c'è più per cronaca ho capito nel momento in cui la raggi si è andata oggi 5 Stelle dicono dobbiamo impedire a Gualtieri di fare il termovalorizzatore ma scusa intanto ne trovi uno del PD che vuole fare il termovalorizzatore io lo abbraccerei due nel momento in cui c'è da risolvere il problema dei rifiuti se si sostiene che il termovalorizzatore produca degli effetti nocivi sull'ambiente vorrei segnalarvi che lasciare i rifiuti in mezzo alla strada col festival dei cinghiali caricarli nei camion portarli a Vienna a Copenhagen è più inquinante più impattante ed è più stupido perché con l'economia circolare il termovalorizzatore diventa occasione anche di benessere ricchezza energia risponde c'è un'azienda importante che fa le strade con gli avanzi del termovalorizzatore si chiama economia circolare quindi sul termovalorizzatore a favore cosa vi mancava da rispondere l'ultima domanda la domanda diciamo praticamente Giulio io sto facendo professore io ti sto facendo come i concerti ti sto preparando la platea tu che sono la band che prepara l'arrivo dei Beatles che cosa che cosa farà da grande Matteo Renzi per l'appuntamento elettorale sono tra i pochissimi italiani che non mi votano quindi l'appuntamento elettorale del 2023 no scusa se fai l'applauso sugli italiani che non mi votano ci rimango male no dopo faranno un applauso generale vero no no insomma e comunque non ci rimango male visto di peggio cosa farò nel 2023 cosa faccio io non vi interessa cosa fa la politica italiana in sintesi rapida secondo me nessuno sa cosa fare e vado in ordine rapidissimo voi a destra avete qualche tensioncella e l'avete visto e l'abbiamo visto non soltanto per il sostegno o meno al governo ma per l'idea stessa di coalizione e quindi dovrete decidere saranno fatti i vostri se Dio vuole io ci sto fuori se e come risolvere questi 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 problemi se è come scegliere di appartenere a delle famiglie europee o no se è come gestire le dinamiche e questi riconosciamo i loro problemi ma Italia Viva sarà con i grillini e direttore se lo faccio un tweet ti facevo il tweet e lo scopriremo solo vivendo a sinistra cosa succede guardate io spendo una parola a favore dell'attività diciamo in mane di fatica che sta facendo del povero Enrico Letta e se lo difendo io ci sarà un buon motivo per credermi perché Letta c'ha uno che si chiama Conte che tutti i giorni è in crisi e in difficoltà e ogni giorno che passa perché Conte vuole andare alle elezioni perché sa che al 2023 non ci arriva integro e questa è la verità allora delle volte qualcuno anche tra di voi un po' flerta con Conte tornando alle vecchie glorie del 18-19 ma indipendentemente dai flirt il tema è che Letta dice se voglio essere competitivo con questa legge elettorale devo stare con i 5 stelle se no non tocco un palla in nessun collegio ma i 5 stelle a forza di stare con i PD perdono e soprattutto io considero un valore che Conte non sia più il punto di riferimento della sinistra allora in questo scenario e vengo alla risposta su di noi noi cosa avevamo fatto io volevo cambiare il paese quando sono stato premier arrivando a fare una legge in cui chi vince governa per 5 anni mi piacerebbe che su questo ci ritrovassimo visto che al referendum eravate contro prossima legislatura mi piacerebbe una legge elettorale come quella del sindaco d'Italia c'è il sindaco ci scontriamo poi si va al ballottaggio chi vince governa anche perché l'alternativa qual è? che ci sono quelli come me peraltro che devono fare tutta la legislatura a buttar giù i governi a rifarli che alla fine diventa un lavoro usurante perché mi sono messo contro il PD che voleva fare l'accordo con Di Maio premier poi contro Salvini che voleva le elezioni al papete poi contro Conte e Casalino che andavano avanti ragazzi abbiate rispetto anche per chi come me è stata tutta una legislatura a cercare di fare nuovi governi ora questo è quello meglio ma come dire a cercare di evitare che si vada avanti così facciamo una legge elettorale tranquilla dove ci si confronta e sono i cittadini che scelgono noi se mi domandi se stiamo nel campo largo se il campo largo è quello con Conte e i 5 Stelle di oggi ho l'impressione che non ci stia nemmeno il PD cioè la novità di queste ultime settimane è che persino il PD si sta rendendo conto che Conte è inaffidabile ci ha voluto un pochino ma anche loro sono arrivati a questa posizione a voi dico auguri e in bocca al lupo per la vostra esperienza soprattutto i più giovani studiate noi viviamo circondati da numeri big data siamo pronti ad andare nel metaverso ma la verità è che se uno non ha delle radici culturali forti e una capacità di formazione oltre che di informazione non va da nessuna parte quindi comunque votiate temo non benissimo dal mio punto di vista siate in grado di approfondire studiare conoscere rispettate gli avversari perché il rispetto reciproco è un pezzo che caratterizza la democrazia vi do un suggerimento di lettura la bellissima lettera che George W no George Bush padre chiedo scusa lascia Bill Clinton George Herbert George Herbert sì sì è il primo perché facevo casino è quello del 1992 la lascia a gennaio del 1993 a Clinton Clinton lo ha sconfitto Clinton non lo considerava nessuno era uno semi soconosciuto governatore dell'Arkansas poi per tutta una serie di motivazioni vince quelle elezioni e Bush che era stato attaccato duramente da Clinton e che aveva a sua volta attaccato duramente Clinton gli scrive una lettera di una bellezza incredibile sul valore delle istituzioni quando entrerai in questa sala tu sarai il nostro e il mio presidente leggetelo perché è un pezzo bellissimo e ultima e unica cosa di contenuto da fare insieme la prossima volta le riforme costituzionali sulle quali ci ho perso la poltrona la seggio la carriera dite quello che volete servono e la prima riforma che serve è quella di garantire lo diceva un professore democratico cristiano che si chiamava Roberto Ruffilli al cittadino di fare l'arbitro che vuol dire non fate che anche nella prossima legislatura mi tocca prendere il 4% e col 4% faccio tre governi diamo una regola nuova in cui come nei comuni chi vince vince e governa per cinque anni e chi perde fa con rispetto l'opposizione in bocca al lupo e buon lavoro buonasera a tutti grazie a Matteo Renzi e a Gennaro Sangiuliano caro Matteo questa è la scuola del confronto del rispetto di tutte le parti politiche in causa e quindi noi siamo stati davvero onorati di averti qui ti ringraziamo e ci vediamo presto ma non si vede però ciao grazie grazie